Musica Bentornati con le consuette previsioni a cura di Meteo One. L'area artica sta fluendo in queste ore sulla nostra penisola e già sul nord Italia sono evidenti i primi effetti. Infatti su questi settori è in formazione un vortice di bassa pressione che porterà precipitazioni diffuse e neve in montagna anche a basse quote. Il maltempo gradualmente si sposterà sul centro e sul sud Italia con conseguente diminuzione delle temperature ovunque. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 11 novembre. Avremo condizioni di tempo incerto su quasi tutti i settori con precipitazioni deboli in un contesto variabile. Le precipitazioni interesseranno maggiormente la Basilicata e la Puglia centro-meridionale. Dalla tarda sera un peggioramento più deciso porterà precipitazioni più intense a partire dal foggiano. Il peggioramento serale sarà accompagnato da un deciso calo delle temperature che si farà sentire maggiormente nella giornata di sabato. I venti soffieranno forti sui monti della Basilicata e moderati sulle restanti zone dei quadranti sud-occidentali, in rotazione da nord in serata. I mari risulteranno poco mosso all'Adriatico, mosso all'Ionio. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo Lucia, Daniele, Colelli e i nostri amici di Basilicata turistica per questa splendida foto scattata tra i boschi sulle rive dei laghi di Montecchio. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure le mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.